Invito sul palco con un grande applauso il segretario federale Matteo Salvini. Grazie, candidato alle politiche, non so chi è ma candidato alle politiche. Anche lui, candidato alle politiche, basta, se no abbiamo finito le liste. Sei bellissimo non è credibile, quindi non candidato, anzi potrebbe essere sospetto. Innanzitutto parlerò 10 minuti, un quanto d'ora non di più, non da segretario federale ma da militante della segreteria provinciale di Milano, visto che vengo al congresso del mio segretario nazionale. Vengo da militante, mi è arrivato come duopo nei congressi il fogliettino con chi devo votare delegato al federale, membro del nazionale Pro Biviro, quindi spero che me l'abbiate dato giusto il fogliettino. Militante fra militanti, abbiamo fatto tanta strada però il difficile viene adesso. Il rischio e il pericolo più grave che la Lega può correre è che qualcuno pensi che siccome adesso i sondaggi dicono che siamo al 15% siamo arrivati. No, il difficile viene adesso perché siamo appena ripartiti, a me non interessa il 15%, non interessa il 18%, non interessa il 21%, io sono qua, penso come voi, per vincere, non partecipare. Se qualcuno è qua per partecipare ha sbagliato assemblea, ha sbagliato struttura, ha sbagliato movimento e ha sbagliato obiettivo perché l'importante è partecipare, lo dicono gli sfigati che sanno di perdere e quindi noi proviamo a vincere. Con umiltà e mi metto in primis a farmi autocritica, tornando a respirare un po' di profumo di colla in polvere nelle sezioni perché non bastano Facebook e Twitter, a me non interessa la Lega movimento liquido, noi dobbiamo essere un movimento solido con delle radici ben piantate sul territorio e quindi il volantino, quindi il gazebo, quindi il mercato, quindi la fisicità, l'esserci. Quindi, perché magari qualcuno dice, beh tanto Salvini va in televisione, numero uno, quando mi dicono è un bravo comunicatore, io mi incazzo. Magari detto in buona fede, perché se fossi un bravo comunicatore che non comunica nulla, non mi interessa. Io spero di essere un veicolo delle vostre idee, non mi interessa essere la faccia sorridente che va in televisione, mi interessa il progetto. Io ho ben chiaro in testa il progetto, non vorrei che qualcuno confondesse il metodo con il merito. Ho ben chiaro dove io e la Lega vogliamo arrivare e ho ben chiaro che il nemico è fuori. Quindi se qualcuno ha idea di passare qualche settimana o qualche mese in sezione, in provincia, in circostazione, a rompere le palle all'interno, anche questo ha sbagliato movimento. Perché l'avversario è fuori dalla sezione, il problema è fuori dalla sezione. Il problema è lo Stato italiano, il problema è lo Stato italiano, che noi vogliamo decomporre e ricomporre. Come? Io ho la tessera della Lega in tasca da 26 anni. Non finirò mai di ringraziare per questa incredibile esperienza che mi ha fatto crescere come uomo colui che tutto ha iniziato, che è Umberto Bossi, senza il quale non saremmo qua. Perché l'infamia dell'Enrico Stai Sereno e poi la coltellata alle spalle la lascio a quelli del PD. Le infamate le lascio a quelli del PD. Io se devo dire qualcosa in faccia a qualcuno gliela dico. Non sono abituato a sorridere in faccia a qualcuno e a cominciare a sparlare quando questo qualcuno gira l'angolo. E spero che tutti gli altri militanti facciano lo stesso. Io preferisco la critica costruttiva al complimento e al sorriso di circostanza. Non mi interessa che mi diciate bravo, se ogni tanto sbaglio, ed evidentemente sbaglio come tutti voi, mi interessa che qualcuno venga a dirmi con onestà e con coraggio, anche se sono segretario federale, guarda che su questo stai sbagliando, questa critica a me serve più del finto complimento. Se è una critica costruttiva. Se invece è il chiacchiericcio da Facebook, anche questo non serve alla causa del movimento. Auguri a Paolo, con cui sono cresciuto. Auguri ai membri del nazionale. Un invito ai segretari di sezione. Apriamo. Io ho sentito gli interventi di tutti i segretari provinciali. È un momento storico che non passa due volte. Apriamo. Usiamo la testa, usiamo il coraggio. Contaminiamoci di energie positive. Ovviamente facendo come nei locali si fa, selezioni all'ingresso. Se uno ci ha sputato in faccia fino all'altro ieri e pensa che la Lega gli garantisca l'assessorato, ha sbagliato movimento. Ha sbagliato movimento. Dove c'è Alfano non ci siamo noi, per intenderci. E su questo non c'è alcun tipo di dubbio. Però non abbiamo paura di aprirci alle associazioni, alle realtà dell'impresa, del volontariato sana, alle cooperative che fanno davvero cooperazione e non ingrassano grazie all'immigrazione clandestina. Fortunatamente ce ne sono tante in Regione Lombardia. Apriamo perché il rischio che non dobbiamo correre è quello di dire adesso siamo forti e quindi finalmente adesso tocca a me. Se entra in sezione qualcuno che evidentemente condivide le nostre battaglie, che è migliore di noi, il segretario di sezione può avere due scelte. Scelta numero uno, lo tengo fuori. Comprensibile. Io mi faccio il culo da vent'anni, adesso arriva uno più bravo di me, non rischio. Scelta numero due, se non vogliamo partecipare ma vincere, questa è una brava persona, vieni, accompagni al nostro percorso, fai un po' di gavetta e se sei bravo ti candido e magari sto a casa io e se sei bravo ti candido, io in primis. Non chiudiamoci, non chiudiamoci, con intelligenza ovviamente, con intelligenza. Voi in Paese sapete chi è persona per bene e chi è un poltronaro. Quindi con intelligenza. Però lo dico a Paolo e lo dico ai segretari provinciali, quella sezione che ha gli stessi cinque militanti da venticinque anni e che allontana la gente, non ci serve. Non ci serve la sezione con la moglie, col marito, col cugino, col cognato e col suocero. Non ci serve. Non mi interessano le armate di Mussolini che poi quando arrivi alla chiamata insomma io spero che chi non era a Bologna abbia avuto validi motivi perché è stata una giornata fantastica e grazie a voi perché la Lombardia ha dato dimostrazione di quello che la Lega può fare alla faccia di tutti soprattutto di quelle zecche dei centri sociali che non l'avranno vinta e con cui regoleremo i conti a tempo debito. Quindi aprire, discutere dove serve preferibilmente, lo dico sottovoce non da segretario o da giornalista non in mezzo alla strada non in pubblico se uno si alza la mattina e ritiene di comunicare al mondo la sua incazzatura su Facebook conta fino a dieci vai in sezione vai in segreteria provinciale vai dove la Lega ti aspetta perché aspettano solo litigi, beghe io sono contento perché in questi due anni si era serenato di molto il clima io mando un abbraccio a una realtà che ha vissuto con difficoltà la realtà storica della Lega nostra gemella fino all'anno scorso perché era guidata da qualcuno che con la Lega non c'entrava un figo secco quindi saluto e ringrazio e abbraccio gli amici veneti che finalmente hanno trovato l'orgoglio la voglia, la forza di correre, di crescere e stanno facendo congressi provinciali unitari hanno fatto il congresso di Padova unitario il congresso di Verona unitario il congresso del Veneto orientale unitario il congresso di Belluno unitario ma non perché c'è un regime ma perché le discussioni le fai prima e poi offri ai cittadini una squadra i congressi litigiosi i sette che si scannano per essere a candidato sindaco perdono perché la gente non ha voglia di litigi in questo momento la gente che non paga il mutuo a fine mese se qualcuno litiga gli mette le mani addosso prima la discussione prima e poi usciamo con un'idea e una squadra quello che faccio lo faccio perché ci credo non perché lo ordina il dottore ho fatto il segretario nazionale non sapendo se fossi all'altezza di farlo e mando un abbraccio a Cesarino Monti con cui mi ero confrontato al congresso che abbiamo fatto della Lega Lombarda l'ultima volta spero di essermelo meritato ringrazio di cuore uno ad uno i nostri sindaci i nostri sindaci che prima che essere sindaci sanno che sono leghisti non mi interessano solo bravi amministratori e onesti amministratori questo la Lega lo dà per scontato onestà e capacità a casa nostra sono scontate mi interessa la rivoluzione mi interessa il cambiamento non mi interessa il prato e io so che lo state facendo senza un quattrino col segretario comunale come un avvoltoio sulla spalla a romperti le palle con altri enti inutili che io vorrò cancellare quando grazie a voi torneremo al governo penso alle prefetture che chiuderemo una per una e penso alle sovrintendenze perché non è Roma che deve rompere le palle sul territorio deve essere il territorio ad autogestirsi e ad autogovernarsi e questo è il nostro motivo di essere qua la libertà l'autodeterminazione dei popoli non la scelgono Bossio Salvini nasce con l'uomo e more con l'uomo la possibilità di essere liberi e di scegliere come farsi governare da chi farsi governare a chi pagare le tasse a chi dire di sì a chi dire di no non sta su un foglio di carta sta nel cuore di ciascuno di noi e io non me lo dimentico e mai me lo dimenticherò il mio onere è capire come come e su questo avrò bisogno dello sforzo di ciascuno di voi come le abbiamo provate tutte ripercorrendo questi anni il federalismo la secessione la devolution il federalismo fiscale il federalismo demaniale le macro regioni io so dove voglio arrivare ma mio dovere è usare il consenso per capire come senza togliere qualcosa a qualcuno ma sento come dovere umano prima che come dovere politico quello di allargare la Lombardia se lo vorrà avrà diritto allo statuto speciale e a gestirsi le sue tasse per i suoi ospedali per le sue strade per le sue scuole per i suoi bimbi per la sua gente e nessuno potrà sognarsi di dire beh ma no e quindi questo è nel cuore di ciascuno di voi la scommessa è mi fermo qua o no cosa faccio? vado a Pescara perché ho voglia di andare a Pescara cosa faccio? difendo anche altre realtà che chiedono di essere liberate dall'oppressione di Bruxelles e dello Stato centrale fate una cosa quello che sto facendo io rileggiamoci Gianfranco Miglio sembra scritto ieri mattina e se uno porta avanti le idee di Gianfranco Miglio non sbaglia strada sicuramente non confondiamo il metodo con il merito ciascuno di noi sa dove dobbiamo arrivare io ascoltando i consigli le critiche e i suggerimenti di tutti tiro dritto e non mi fermo davanti a nessuno perché voglio vincere voglio per i miei figli un futuro da uomini liberi da uomini liberi in Lombardia in Veneto e se me lo chiedono anche in Salento anche in Salento e se la Sardegna vuole fare un referendum sull'autodeterminazione della Sardegna io gli dico di sì e sono il primo andare a dare una mano a correre perché la libertà dei popoli non conosce confini e non conosce limiti e questa è la mia scommessa tornare padroni del nostro futuro evidentemente non cambiando idea se il ponte sullo stretto di Messina serviva poco prima secondo me continua a servire poco adesso se i 30.000 forestali della Sicilia sono un insulto prima i 30.000 forestali della Sicilia sono in insulto anche adesso e quando andremo al governo gli mandiamo a lavorare finalmente facendo un'altra cosa se ci sono falsi invalidi che portano via i soldi agli invalidi veri è lì la nostra battaglia ovunque siano annidati la scommessa è fra una sinistra che scommette sullo Stato e noi che scommettiamo sull'uomo sull'identità sul territorio non c'è più il derby destra-sinistra quando mi dicono voi siete il centrodestra mi viene l'orchite perché mi viene in mente Alfano no io non sono il centrodestra io sono per il territorio la cultura locale l'agricoltura lombarda che potrebbe essere un'eccellenza a livello mondiale se non ci fossero i rompipalle di Bruxelles a spiegarci come si fa l'agricoltura partito della nazione partito delle persone partito statalista partito delle autonomie dei territori delle libertà da Bolzano ovunque ci chiedano di esserci per questo processo di libertà io vorrei che ci fosse ben chiaro questo non mi interessano i nomi questo è il mio e il vostro obiettivo la Lega Lombarda deve darci una mano ad arrivare a questo obiettivo le battaglie della Lega ormai le sappiamo la legge Fornero gli studi di settore la difesa del Made in il canone Rai ocio che vi arriva la bolletta io il televisore non ce l'ho e non lo pago ma se mi dovesse sfiorare il dubbio se pagarlo o no il dubbio mi arriverà solo nel momento in cui una parte del canone Rai che secondo me è una truffa di Stato finirà a sostenere le televisioni locali che fanno vera informazione sul territorio in Lombardia sono le uniche che informano i cittadini è questa la differenza fra lo statalismo di Renzi e l'attenzione al territorio sono due visioni di vita uomini servi e uomini liberi non sto a parlare di immigrazione un po' rido un po' mi girano le palle leggo l'Europa ha scelto oggi notiziona controlli alle frontiere ma dai cazzo ci sono arrivati anche loro controlli alle frontiere io dico chiusura alle frontiere non controlli alle frontiere chiudiamole chiudiamole chi c'è c'è chi non c'è tanti saluti e c'è qualcuno che pensa di risolvere il problema del terrorismo islamico con la fiaccolata per la pace vai a fiaccolare in Siria e vediamo come ti trattano io so stufo di minuti di silenzio retorica ipocrisia e fiaccolate io non ho paura io non cambio modo di vivere non ho paura dei terroristi che ci sbiggeremo ho paura dei pavidi e dei vigliacchi che in Italia fanno finta di niente si lavano la coscienza con la fiaccolata ci avete rotto le palle è oria di agire non di fiaccolare di twittare di cambiare il profilo su Facebook sai cosa gliene fotte a quello dell'Isis se uno cambia il profilo su Facebook è ora di fare usando le maniere forti con certa gente si devono usare le maniere forti non il dialogo l'extrema razio potrebbe essere provarci con la Boldrini e magari si arrendono per disperazione però temo che neanche questo potrebbe funzionare alleanze sì ma non a tutti i costi sì ma non a tutti i costi io ho organizzato la giornata di Bologna per dare un'idea di alternativa diversa però mi posso prendere davanti a voi due impegni uno che non ci saranno ritorni al passaggio non sono un nostalgico sono un nostalgico solo quando ripenso alle vittorie del Milan di Sacchi ma in politica non sono un nostalgico esperiamo dall'aula chi fischia non penso alle vecchie gloriose macchine da guerra di vent'anni fa e se qualcuno pensa alla riedizione del passato ha sbagliato a capire e poi visto che in questo momento fortunatamente i cittadini dicono che il nostro progetto è l'unica alternativa plausibile a Renzi accordi sì ma sui miei progetti sui miei programmi e condividendo quello che volete fare voi non saremo noi a dover condividere quello che vogliono fare altri chiedendo per favore un pezzettino di autonomia non è che se ti avanza tempo mi dai un pricciolo di autonomia in Lombardia no chi vorrà fare strada con la Lega sa che cosa lo aspetta e quindi le mie porte sono aperte le nostre porte sono aperte però senza riciclerie e senza che noi lasciamo per strada quella che è la nostra battaglia la nostra identità io a questo voglio arrivare io ringrazio voi questi 26 anni per me sono stati come per molti di voi un'avventura incredibile mi auguro che ce ne siano altri 26 e mi auguro che fra 26 anni quando mia figlia di anni ne avrà 29 vivrà in un paese libero sviluppato democratico che riconosce le identità riconosce le diversità riconosce e valorizza i suoi territori dove se i Lombardi vorranno scegliere di dare una piccola mano a qualcuno che ha bisogno lo sceglieranno loro non saranno strozzinati da uno stato ladro che noi dobbiamo smontare pezzetto per pezzetto perché il nostro avversario è lo stato ladro e centralista che ruba ruba i ricchi e i poveri qua non fa distinzione tanto poi ci pensa Renzi abbiamo l'attacco dell'Isis abbiamo gli attentati e Renzi ieri cosa fa manda un messaggio su Whatsapp ciao ragazzi sono Matteo Renzi attenti alle bufale quindi dimettiti perché la prima bufala sei tu se sei conseguente essendo tu la prima bufala in questo momento in Italia ciao Matteo sono un ragazzo dimettiti questo succederebbe in un paese civile adesso io vado un attimo in anticipo e spero di seguirvi via radio o via internet vado a portare il mio e il vostro doveroso saluto e contributo non una persona che non c'è più ma che è ancora con noi che ho avuto la fortuna con cui ho avuto la fortuna di parlare giovedì giovedì niente succede per caso evidentemente sono riuscito a trovare quelle tre ore di tempo per andare in ospedale a Verbagna a parlare con Gilberto Neto a parlare con sua moglie per un'ora a chiedere a chiedere consigli a chiedere consigli a chiedere umilmente consigli sono un po' incazzato con lui perché gli avevo lasciato i compiti a casa da fare ho detto Gilberto mettimi giù su un foglio fra tutte le persone che hai incontrato in questi 25 anni chi sono le persone serie e chi sono i chiacchieroni dammi i nomi di quelli che ci possono dare una mano perché ho bisogno perché abbiamo bisogno perché se abbiamo i voti ma non sappiamo come arrivare a usarli per la rivoluzione ci manca un pezzo ci manca un pezzo qualcosa me l'ha detto qualcosa spero che l'abbia scritto e sono contento che per chi crede mi abbia aspettato perché poi e a fronte di questo il litigio locale sparisce a fronte di questo la bega per la nomina nel CDA sparisce a fronte di questo quello che si dimentica di adempere al suo dovere di contribuire moralmente ed economicamente alla vita del movimento sparisce mi fa incazzare con una destia chi non fa quello che deve via via nessuno costringe nessuno a stare qua chi non fa quello che sente quello che deve via il mondo è grande abbiamo una marea di militanti che possono prendere il posto di quelli che si dimenticano di quelli che si dimenticano ecco questo è quindi porto il vostro saluto il vostro abbraccio e mi porto dietro il mio impegno a fare altri 26 anni di battaglia sperando che avremo portato anzi essendo certo che avremo portato a casa un po' di libertà per i nostri figli non ho bacchette magiche non ho soluzioni miracolistiche commetto tanti errori sono a disposizione del mio segretario nazionale del mio direttivo nazionale del mio segretario provinciale e del mio segretario di sezione a cui chiedo scusa perché non riesco a essere nella mia sezione quanto vorrei e quanto dovrei se ciascuno di voi si porta a casa per la giornata di oggi l'impegno a non molare mai a tenere i piedi per terra a fottersene dei sondaggi a pensare all'obiettivo finale noi la nostra terra ai nostri figli la lasciamo libera grazie a tutti in bocca al lupo buon lavoro e grazie per quello che mi date ogni giorno che è la forza che mi fa andare avanti dalla mattina alla sera se voi non mollate io non mollo viva la Lega Lombarda viva la Lega Nord e viva ciascuno di voi per quello che fa grazie ragazzi di cuore di cuore veramente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti